ciao a tutti ragazze e ragazze benvenuti e bentornati sul mio canale oggi vi farò vedere un bellissimo model kit della bandai cioè zampo 3 vediamo l'apertura di questo bellissimo scatola abbiamo quattro moduli avremo subito il primo modulo dovrebbe essere zambonese vediamo se abbiamo fatto un affare ecco qua qua ci sono tutti i pezzi da assemblare anche le figurine e istruzioni molto colorato di blu di rosso giallo e nero non vedo l'ora di montare due e quattro mettiamo a posto questo è il zambonese che è quello più piccolino che va a comporre il zambot 3 se non sbaglio pure il secondo e il terzo e quattro vanno a comporre il zambot 3 passiamo al secondo nel secondo troveremo lo zambirt cioè l'astronave si vede? ok apriamo vediamo se è tutto ok come al solito troviamo qua le figurine oh guarda qui abbiamo la spada tra le spade lunghe e corte e tantissimi pezzi da assemblare gialli, rosso e blu perfetto abbiamo tutto bello nella sua confezione ho parecchio da fare passiamo al modulo numero 3 questo qui una volta finito di montare era fuori questo qua che si chiama zambil numero 3 zambil andiamo a verificare che c'è tutto oh quanta roba abbiamo due confezioni abbiamo i cingoli parti trasparenti trasluci di blu abbiamo una figurina per applicare più istruzioni trasformabile nelle braccia del nostro zambot 3 fatto davvero un grande affare con questo acquisto ok passiamo all'ultimo modulo che è il numero 4 cioè lo zambase questo è il piccolino l'altra astronave e qua è più grande bellissimo veramente spettacolare andiamo a verificare il contenuto oh tanta roba anche qua abbiamo due bel pacchettini da assemblare abbiamo cinque come si chiamano griglie cinque griglie da da staccare e da assemblare qua abbiamo altri cinque diversi con le rosse e blu più abbiamo qua due figurine diverse figurine ci sono due da applicare più l'istruzione eccolo qua mettiamo tutto nella sua confezione chiudiamo e via questa è la scatola molto semplice da 15 anni in poi non è un giocattolo ok questi sono i quattro moduli da assemblare nel nostro Zambot 3 che verrà fuori credo sui 18 cm cioè una bella una bella bestia ripeto al costo di solo di meno di 19 euro eccolo qua anche bellissima l'immagine il simbolo di Zambot Ace Zambot 3 ripeto 40esimo anniversario di Zambot 3 per questo video è tutto iscrivetevi al canale grazie alla prossima ciao ciao